Eh sì sì sì, col godo in bocca al mattino, guarda lì, guarda lì, guarda lì Questo canale è sponsorizzato da Star Select Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Cydonia Trovi il link in descrizione Ciao a tutti ragazzi, qui è Cydonia Chiara accanto a me e benvenuti in una nuova Crowned Dumbattle Modalità metronomo, ciò che è giusto 2 e il ritorno del re Nell'ultima Dumbattle gli eventi sono stati piuttosto nefasti per noi Abbiamo cercato anche di trattare con la giustizia Le trattative sono andate avanti nel corso della settimana Vi dico che ci siamo sentiti a Palazzo Chigi, ci siamo incontrati E ne è venuto fuori qualcosa di interessante Ovviamente siccome sono cose private non le posso dire Quindi andiamo a vedere i nickname che avete scelto per noi E poi durante la battaglia capirete che ci siamo detti Ma chi fa da mediatore? Gesù Per Dusclops, Blackjack e Matteo Marchisio scelgono Noone o Noone Perché come Ulisse barra nessuno ha affrontato Scilla e Cariddi Ovvero Alcremì e Guglielmo Il famoso youtuber Era Alcremì e Guglielmo Giusto, è vero ragione Grimsnarl diviene poi Thanos Scelto da Gabriele Link perché più che Thanos era la sua versione dell'Euro Beyblade poi Blade babababau che era un modo molto lungo di dire Spin Masprit diviene Gufone scelto da Fendit VGC perché prima era Godone E si è gufato il Burn divenendo quindi Gufone Inteleon diviene RAM scelto da Francesco Robustelli e Christian Lepadatu Perché era Intel e quindi era un processore E ora invece è memoria volatile per via dei numerosi rimbalzi e voli che ha fatto durante la partita Mi piace Stiamo entrando in quel tipo di giro di nickname Mashamp diviene sacristia Scelto da Daniel 2000 perché secondo la legge del Dio della Maduro Io sapevo che sarebbe piaciuto questo Cioè ha letteralmente scritto solo questo Eh hai ragione Daniel Il 2000 Sono gli anni nel futuro in cui vedi Polithod in ultimo diviene Nothing Perché prima era Something E questo nickname è stato scelto da tutti E adesso non ha fatto niente Quindi esatto non è nulla E tra l'altro anche se per motivi scollegati Ma Dusclops e Polithod sono comunque di nuovo collegati stavolta Perché la volta scorsa erano Someone e Something Adesso sono No One e Nothing E non hanno rotto nessuno Elden Ring Finito non c'è più Elden Ring ragazzi Non esce più Tutto a posto L'anello sta bene Nella mia squadra Mil Tank diventa Godotta Scelto da Marco Lucano perché come Godot Tutti la aspettavano ma nessuno l'ha vista Godotta Mi ha fatto veramente piacere Alcremi e Togekiss rimangono in coppia Diventano rispettivamente Etna e Stromboli Scelto da Livia Depoteto e Matteo Di Biasi Perché erano Scille e Cariddi E hanno usato Eruzione e Sparafuoco Stromboli non lo seguo Etna sono iscritto invece Adself diventa Mammarzo Scelto da molti di voi E la motivazione che ho scelto per esemplificare questa decisione è di Luca Canazza che scrive Anche se Idonia si merita qualcosa Still It One Channel diventa Candy Muse Scelto anche questo da diverse persone perché la sorella di Dalia Sin Che era il nickname che aveva l'altra volta Non ha fatto un granché durante la partita però comunque è arrivata Quindi non è un'opinione solo nostra il fatto che Candy Muse sia arrivata random in finale Ovvio 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 Per concludere Poli Verrata diventa Thor Anche qui un nickname condiviso da diverse persone perché ha scompito Thanos ovvero Grimmsnarl Con una mossa acciaio esattamente come Thor ha martellato Thanos in Endgame Facciamo un po' di let's go Facciamo un po' di let's go Quindi solo let's go Pikachu Lasciamo perdere l'altra metà Ci siamo la musica di Mary Mary Riecheggia nelle nostre orecchie Mary 2 Me la so sentita così Mary 2 Riecheggia nelle nostre orecchie E tu mandi in campo Etna e stromboli Coppia che vince e non si Mentre noi mandiamo in campo Sacristia Nothing Perché oggi la legge di Dio e la Madonna non conta Non vale L'Etna si prepara Agita il ditone di cui è chiaramente fornito l'Etna Aromagus e quella Poison Non mica avvelena Non mi pare Non mi pare posso avvelenare Sacristia si prepara Agita il ditello all'insù E va di Fuoco blu Sì Attacco speciale su un fisico Sì Va comunque male Burn Stromboli è pronto E va di Baldeali Stub su Machamp Si muore raga No ok Comunque si soffre Ecco questo si Nothing è carico E va di Vento di Fata E questo ci piace Addirittura Insomma un attacco speciale Ci vogliono trattare bene Sacristia è pronto E va di Raflesio Non male Non male Giù gli attacchi fisici Per un po' di turni Cinque Non male Etna è pronto Le fragole Vengono immerse Leggermente nella panna E in virtù del riflesso Niente mi fai Stromboli Si prepara Il dio E poi la madonna La sacristia E qui parassi Nooooo Sacristia si prepara Agita le tre creste Di cui è fornito E va di Buono Ci si cura tutti Sintesi Godo Non godo Go È la somma Delle due cose L'Etna si prepara Gli occhi sono Arrabbiatissimi Va di Verde Su Polito Su Polito Ammazzamelo Dai Ma si è appena curato Stromboli è pronto I piedini Non toccano terra Neanche oggi Va di Guarda 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 Sta merda Guarda Vai Curopoli Nothing si prepara E basta E va di Fogliame Ottimo Lo hitta Ragazzi Lo hitta Incredibile Buono Questi 15 PS Li danno O radicamente Adesso abbiamo La fulbitanza Buono perché Parassi insieme Ragazzi Non è per nulla Fastidiosa Come mosse Su Polito E così Ma ci sta Etna E' pronto Fa Ibidi E va di Calci in volo Che hitterà Gufone Gufone si prepara Volteggia Nell'aere E va del Garante Della privacy Che farà Molto male Entrambi Provano un Folletto Sì sì Ottimo Etna E' pronto La panna E' montata E va di Ripicca Ti prego Su me Sprit Per favore Sacrestia E' carico La legge della madonna Vige ancora Evidentemente Va di Ronzio Altra mossa Che non farà Niente Buono Etna E' pronto Agita il ditello E va di O scurtuffo Per favore Su me Sprit Perché è super efficace Stromboli E' pronto E va di Riempi Guance Quindi si mangia La bacca E si tira su Difesa Di molto Sacrestia Si prepara Probabilmente A fare l'attacco Su Etna Ah no Fa forbice x Resistita Per 4 Ah giusto Ma io no guard Posso colpire L'area Giusto Su me Aspetta ragazzi Arriva su me Gufone Si prepara Agita la gemma E va di Scheloggeggia Su Togekiss E quindi Andrà su Al cremino Ok No 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Etna è pronto Agita il ditello E va di Sumespit Per favore Ragazzi Ci sta Gufone Carico Volteggia E va Di Scaglia Gelo Ce l'ha proprio Con il Gelo Ok Su al cremino Per favore Si può avere Crit Sacrestia Sacrestia E' pronto Per il suo Ultimo turno E va di Al acciaio Oh una mossa Super efficace Arriva la Strampadanza Che è l'unica Cosa che ci può Salvare Il fatto che Toggi sia Confuso Adesso Oltre che Paralizzato Quindi Paracanfusion Gufone Se ne frega Della confusione E va di Vuotonda Altra mossa Resistita Ragazzi Però Basta Prima kill Ragazzi E' unica Probabilmente La partita Ci siamo E godo Tanto Se ti sento Di figlia Come lo stato Italiano Entra in campo Candy Muse Sacrestia Dorme Gufone Non è più Confuso Bravo 1-0 Parla al centro Che si va? Si fa calciardente E si barna? Si fa calciardente E si barna? Si fa calciardente E si barna? Sacrestia Si è svegliato Ma è ancora Confuso Candy Muse È carica Bringa Nella runway E va di Tripletta Ok Va bene così Va bene così Si gode Stromboli È carico Gli occhi sono Aggressivi Al punto giusto E va di Acqua Di sale Non dovrebbe farmi Troppo male E infatti Acqua di sale Come riportato Sulla bottiglia Qui Nasce nel 1996 Tanto di cappella E infanto Stromboli Raggiunge Quasi il full vida Faglielo vedere un po' Tonos Faglielo vedere un po' Che non sei fake Tu sei real Gufone si prepara È ingazzato nero E va di ripicca Buona su Hitmonch Anche se non dovesse essere Una Hit Neutra È buona Candy Muse si prepara 1 2 2 1 E va di Trivertigli Tira giù cosa? La difesa? Gufone È pronto I piedini Sono all'insù E va di Divinazio Tantasostazio Perché qui Tonos si prepara Il naso è appuntito E va di Ora del Tè Sì Ma infatti hanno fatto Tutti quanti il tè Proprio Ho visto Ora del tè E tutti quanti Mangiano le bacche Per forza Che disastro Candy Muse si prepara I piedini Viola Sono tippe tappati E va di Magifiamma Giù attacco Speciale Tonos è carico Eurospawn è con lui E va ad dire Idrobreccia È buona in realtà Idrobreccia Idrobreccia Gufone si prepara Sbibiti E va di Matti Mattingodo Eh Sì 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 Col godo in bocca Al mattino Guarda lì Guarda lì Guarda lì Ah Toca che si prepara Le alette Sono flesse in avanti E va di calcio in volo Che riesce a irritare Ma tanto Il niente mi fai Guarda cosa arriva adesso Ma forse Alla fine Noi non siamo poi Così tanto intelligente Rispetto agli cimpanzè Guarda di chi siamo pari Di chi siamo pari Il problema è che tanto Vincerà stromboli da solo Entra Tor Tonos si prepara Mette le mani avanti anche lui E va di Rete vischiosa Un sacco di merda Viene buttata in campo Anzi proprio un sacco di merda Viene Gufone si prepara Le code anche Ormai puntano verso il cielo Poltageist È buona roba Poltageist C'era il mega calcio Mesprit si prepara E va di rimbalzo Anche lui Lontano dal mare Eccolo qua Oh Gufone scende Super F Bono Bono Gufone è pronto La gemma è potente Attenzione L'unico modo Potrebbe essere davvero L'unico modo Di ammazzare stromboli Vespite vuole portarti Nella tumba con sé Thor si prepara Niente mi fai Tor contanna Qualcun'altro a morte Sai che anche l'ultimo canto Viene passato Lui entra Ma ammazza raga Raga ma ammazza Raga oggi ma ammazza davvero Tonos si prepara Siamo rinvigoriti da questa cosa Agita il ditone Sguardo Ferox Sì Sì sguardo Ferox Un'altra par Così li stolliamo E moiano Di amadonna E mo Tutti paralizzati Stromboli È pronto E va di Fendiff Non importa Tonos Hai fatto schifo Come era previsto Ma va tutto bene Tu non sei nessuno Ma Puoi stollare Devi stollartela Ok No one Non bisogna prendere danno Buffone è pronto Vola E va di Purificatio Quindi che succede Ma che non sei Cioè ti cura da uno status Per curarsi lui Oh no Non ti permettere Stromboli È carico E va di Raggioscosto Perfetto Perfetto Tra voi Appestati Quello che volete Tanto è finita Sì Tirati sull'attacco speciale Sono sicuro Che ce la farai Ah Sei morta a full vita A full vita In qualche modo Ragazzi Siamo in vantaggio Non ve lo vorrei dire Ma siamo in vantaggio Se riusciamo a vincere Questa da un battle È assurdo Ammazza Ass Perché Sono tutto solo E non ho nessuno Accanto I guai Han preso il volo Mi sfottono Soltanto E ritorna Thor Che Ush Bei botti Ragazzi Ma è ottima Sta cosa Forse vinciamo Quest'ultimo canto È stato decisivo Ram si prepara Il ditello Fa così E va di Vuotonda Su Poliv Ce lo togliamo dal palle Godotta è pronta Stai zitta Drago Entra Deve Deve recuperare lo svantaggio Trattamela bene Cos'è questa maleducazione Guarda No one come regge Il niente mi fai Thor si prepara La spirale Non è più così ovale E va di Forza del tello Attenzione Ram è pronto Agita il ditello E va di Prismagodo Ti prego Vabbè Vabbè Abbiamo preso la kill Vabbè Siamo due contro uno Siamo due contro uno Siamo due contro uno Siamo due contro uno Godotta E carica Il collare È nero Pare una suora Un po' E va di Luce siluro Questa fa malissimo No one si prepara L'occhio è del bosco E quindi è un malocchio No 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 Che fai No 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 one ti prego No one ti prego Perché devi fare male anche al tuo amico No one Tutti i turni Perché Perché Che probabilità ci sono Di fare questa cosa Ram si prepara Punta il dito Una bella Una bella mossa lotta No Godotta si prepara A esplodere Esplodi Scaggio Ma guarda che Torni Mi ti ha fatto Qualche chiede Godotta si prepara Dovresti killarmi Sinceramente non dovresti farmi Ne ho otto Sennò più tre di difesa E reggo Non ti busta l'attacco Reggo Ti prego Attacca però Adesso attacca Attacca Ram Attacca ti prego Attacca 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 Sono cinque turni Mi si riattacca Palla clima Palla clima Che bella Sta palla Giuliacci Dai Ram si prepara Agita il vitello E va di vento Di palle Sì Questa è un tipo Non attaccare Mi accanta Se forse Mi ammazza No Non è la fattiva Si è perso Prego Chiudi questo Da un battle Ragazzi A me dispiace Un sacco Che ci sia Questa serie Di lotte In cui Un sacco Di mosse Sensate Sono solo Dalla mia parte Invece Dalla tua parte Ci sono O pochi danni O danni Sul target Sbagliato È una sensazione Che ho ben presente Mi dispiace Vorrei che ci fosse Un po' più di equilibrio Però non ho idea Di come si possa Influenzare In qualche modo Quindi se Questo video vi è piaciuto Lasciate un like Di supporto Al team Cydonia Perché se lo merita Perché Ha patito molto Fino adesso Non è giusto Deve rimettersi In carreggiata La prossima volta È una Scambio magico Quindi Quelle dove si vede La skill Vera Lì ce la puoi fare E intanto Scriveteci nei commenti Nickname Per i nostri Pokémon E in descrizione Trovate Oltre a Star Select Anche TT Che è il nostro Sponsor di fiducia Che vende magliette Anime Serie tv E videogiochi Con il codice Sconto Gio Ma non avete Un euro di sconto Su ogni acquisto L'appuntamento Poi è per Stasera Alle 20.45 Con la Nuzloc Di Pokémon X Dove Stai avendo Un po' più di fortuna Ragazzi Mi dispiace Per questo video È tutto Ci vediamo Alla prossima Grazie